Ehi, ma dov'è il cappello di bagna? E' già fuggito per la paura? Eccomi, sto arrivando. Oh yeah! E' il corretto! Hey guys! Benvenuti sul canale degli Amendola Brothers! Io sono Salvatore e siamo qui per il gameplay di One Piece Unlimited Red World One Piece Unlimited Red World o Unlimited World Red come lo volete chiamare il nuovissimo gioco ispirato al manga del Sensei Oda ovvero il maestro Oda detto in italiano l'autore di questo manga ragazzi uno dei miei manga preferiti e non poteva non mancare non poteva mancare questo gioco dalla mia collezione di giochi lo stiamo giocando ragazzi su piattaforma Wii U siccome era la versione migliore reperibile ovviamente è uscito solo per PlayStation 3 e Wii U quindi la versione Wii U era la versione migliore e abbiamo preferito prenderlo per Wii U vi faccio un piccolo riepilogo della storia perché qua siamo al secondo episodio della storia praticamente ci troviamo ovviamente ragazzi per chi non ha visto le puntate del manga fino a dove sono adesso ci sono dei piccoli spoiler purtroppo infatti già adesso vedendo Zoro con un occhio mancante è spoiler quindi quello mi dispiace ragazzi purtroppo dicevo siamo appunto quando la ciurma di cappello di paia si è ritrovata dopo i due anni di allenamento nel nuovo mondo siamo in questa isola non mi ricordo il nome dell'isola però praticamente è stato liberato dalla prigione di Ennis Lobby uno dei più grandi e temibili pirati che esiste a livello di Roger e di Barba Nera solo che questo pirata non ha come si dice non ha fatto non ha fatto diventare il suo nome famoso perché è stato quasi sempre in prigione perché aveva un potere potentissimo praticamente siamo sbarcati appunto adesso su questa isola e sono stati rapiti tutti i nostri amici Rufy nel primo episodio è andato a liberare appunto i primi che sono Zoro e Frankie e c'è un nuovo arrivato nella ciurma di cappello di paia che dopo vi faccio vedere adesso siamo ritornati dal salvare appunto Zoro e Frankie e siamo nella locanda dove ci si riposa e Zoro dice sembra che non siano ancora arrivati sono tornato alla nave ma non sono nemmeno lì questa è la locandiera Yodoya oh voi dovete essere il gruppo di cui ho sentito potendo parlare di certo ne avete l'aria di cosa parli mi è stato promesso che avreste aiutato a costruire la città se vi avessi offerto la lotta il sindaco mi ha chiesto di trovare dei lavoratori ma finora non ho avuto molta fortuna ecco un'altra situazione assurda Nami andrebbe su tutte le furie se fosse questa è la prima volta che sento parlare di costruzioni di città eccolo là il nostro rufi ragazzi davvero e quando dicevi un uomo vero mantiene la parola data cosa ho detto questo anche quei due sembrano uomini veri non mi aspetto che uomini così si rimangino una promessa dico bene porca miseria sono loro nei guai uomini veri no mi dispiace affatto essere non mi dispiace affatto essere chiamato così in realtà lui è un cyborg allora è fatta per prima cosa voglio costruire una taverna così la gente avrà un luogo in cui ritrovarsi e la città sarà più viva una taverna eh non è una brutta idea eh ti piace un chiu chiu eh Zoro mi piace obbligarsi se ti serve un costruttore lascia fare a me sono l'esperto dei campieri navali adesso vi spiego un po' le meccaniche di gioco eh ragazzi mentre finisce il filmato qua alla locanda puoi usare oggetti e denaro ottenuti per espandere le strutture della città selezioni amplia dalla locanda sta diventando sim city mo la gente perché sta vedendo il game dice che cacchio sim city per costruire stabilimenti ristoranti e osterie ecco qua amplia allora praticamente ragazzi quando noi giochiamo eh normalmente nel gioco eh sblocchiamo dei tipi di blocchi di legno frammenti di vetro e cose così oggetti che poi possono essere eh usati nella lobby centrale ovvero nella cittadina eh principale appunto per creare eh delle cose della città che poi ci possono essere utili più o meno e vedremo ehm a cosa servono ok andiamo a vedere eh appunto che cos'è questo apri la taverna apri una taverna da lì potrai accettare missioni da giocare con i tuoi amici ah ecco tipo una modalità multiplayer bene ampliare lavori in corso la taverna ha aperto franky uguale a costruire proprio niente franky guardate tutti i personaggi anche i personaggi secondari ragazzi sono disegnati dal nostro maestro Oda ce l'abbiamo fatta e abbiamo aperto la taverna quella notte ora continuo la storia come potete vedere che è proprio un classico gioco di ruolo e questo è il nemico principale il pirata che vi dicevo prima che è scappato dalla prigione di Enes Nobi si chiamava Enes Nobi si chiama Red Red il solitario perché lui non ha nessun amico mi è entrata la sabbia negli occhi stai bene ora che mi ci fai pensare un vento caldo è carico di sabbia e soffia da questa mattina da dove arriva solo l'isola non c'è nessuna area deserta la sabbia mi fa venire in mente una persona Jonathan andresti a dare un'occhiata per scoprire la causa se continuo così non potrò stendere il bucato non avevamo condottato di occuparci solo di costruzioni ecco qua l'altro che vi dicevo che fa parte diciamo tra virgolette della ciurma di cappello di paglia Pato Pato il paperino il paperino no Zoro credo valga la pena indagare deve esserci sotto qualcosa sembri molto sicuro di te cosa te ne fa pensare che importanza andiamo a vedere forse così ritroveremo anche se questo a me questo Pato mi puzza di bruciaticcio chi lo sa fermo dove sei le cose che ti porti qui vengono messe nel deposito se ti serve qualcosa mettila nella tua scorta prima di andare il retino per insetti e la canna da pesca nel deposito puoi usarli quando vuoi porta con te un retino per insetti e potrai catturare le creature dentro e fuori nella città per iniziare selezione il retino dalla griglia oggetti mira qualcosa e quindi premia tipo a pescare potenza il retino di una fabbrica per facilitare la cattura metti la canna da pesca nella tua porta così potrai pescare nei punti disegnati nei vari scenari puoi usare i pesci pescati per espandere la città e per cucinare poi prova a usarli potenza la canna da pesca in una fabbrica per facilitare la cattura delle parole per prelevare gli oggetti ottenuti durante le avventure dal deposito alla locanda selezione organizza sporta nel deposito per prendere gli oggetti usa la griglia oggetti oppure seleziona oggetti nel menu di pausa per usare gli oggetti mentre giochi premi i tasti direzionali seleziona gli oggetti nella griglia quindi premi per usarli scegli con cura quale oggetti usare per completare l'avventura senza rischi ok andiamo appunto a vedere il deposito che cacchio è organizza sporta gli oggetti che possiamo portarci indietro capsula curativa il retino e la canna da pesca ok capsula curativa una sola quante ce ne abbiamo? due poi prendiamo il retino e poi vedete tutto quello che abbiamo non ce lo possiamo portare siccome abbiamo anche spazi vuoti nel deposito blocco di legno carbonella spazzatura ferro rocce cenere erbe queste cose qua servono sicuro per costruire e infatti bene all'ingresso c'è una signora che vuole aprire una farmacia pare sia una farmacista eccezionale la moglie di paolo da puzzo la città ne trarrebbe grande giovamento vai a parlare ed ecco sta arrivando appunto l'abbiamo nominato il dottore eccoci qua ragazzi finalmente si gioca dopo tutto questo chiacchierare ecco questo è il livello rufi il nostro rufi a livello grafico appunto nel nostro gioco questa è la cittadina centrale che vi dicevo appunto non mi ricordo come si chiama la città ma annaccia la miseria c'è infame non mi ricordo vediamo se c'è scritto transtown ok non mi piace questo nome transtown la città dei transt bene sulla mappa possiamo vedere ragazzi ci sono appunto le missioni che possiamo intraprendere la bottiglia e la locanda e mentre la luna la e la taverna dove andare a dormire forse è il contrario vabbè questo è il menu ok io direi di iniziare voglio vedere un po' di azione ecco qua dove esce quando vedete che esce sullo schermo il simbolo della X serve appunto per poter fare il gum gum pistol cioè il gum gum rocchetto come lo chiama nel gioco appunto per salire sulle case ecco appunto oh là c'è un forziere come come rocchetto apriamolo eccola cosa c'è dentro riso dorato riso dorato e che schifo di riso è ok andiamo a parlare con qualcuno come potete vedere è molto è proprio un classico RPG non a turni perché poi vedete il sistema di combattimento però tipo si può parlare con la gente si può interagire con la città se la si può modificare si possono modificare i personaggi ho sentito che risolvete i problemi almeno così dice io anche i gestori delle taverne hanno i loro problemi potresti chiudarli dietro con pezzo naturalmente bene non possiamo parlare proprio con tutti ti vedo bene eh grazie che fase fussola ti vedo bene vabbè allora dovremmo andare adesso vai alle nuove terre e trova i tuoi amici ovviamente purtroppo hanno messo che non si può notare era una battuta Rufy non può notare perché lui ha mangiato il frutto del diavolo ok ragazzi scrivetemi nei commenti pure cosa ne pensate dell'anime di di chi ti è vivo no dell'anime di Rufy appunto cioè di One Piece se lo vedete ok poi ci sarà prossimamente ragazzi anche prossimamente martedì giusto martedì sera la data la data martedì 15 luglio ci sarà la diretta appunto di One Piece Unlimited Red su multiplayer sul twitch di multiplayer punto it dove appunto spiegheremo ancora più a fondo il gioco vabbè ma adesso andiamo oh oh adesso andiamo adesso andiamo appunto cerchiamo di andare avanti con la storia voglio farvi vedere anche qualche combattimento se è possibile dovrei andare di là però non vedo c'è il mare e non posso quindi non posso andare sulla spiaggia per il momento vediamo la mappa cosa ci dice ci sono alcuni punti esclamativi andiamo a trovare quello che non mi piace è che non c'è la mappa sullo schermo quindi non c'è la mappa su schermo e non c'è neanche sul pad e questa è una cosa che non mi è piaciuta tanto non mi è piaciuta di solito le mappe dovrebbero stare almeno pure su schermo anche se no uno come fa devo premere ogni volta start e andare a vedere la mappa la c'è la la tausanzanni allora dove sta questo che vuole la missione questa signora vediamo vorrei tanto trasformare questo posto in un frizzante metropoli ma non so come recuperare tutti i materiali nessuno degli uomini è abbastanza coraggioso da spingersi nell'entrotella per fortuna siete arrivati voi oh 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 eccola una missione hai voglia di morire no che dici non ho affatto voglia di morire allora costruisci una farmacia dopodiché potrai acquistare medicina da me perché io sono la farmacista leggendaria Eloisa ho inventato io stesso questo appellativo quindi se non vuoi morire seleziona amplia alla locanda ora alla locanda puoi costruire una farmacia andiamo alla locanda e andiamo a costruire la farmacia dopo queste sono le fasi fasi iniziali del gioco ragazzi che sono divertenti ovviamente giocandole però non c'è molta azione azione allora dove sta la locanda quella è la taverna la locanda dovrebbe essere indietro ovviamente sto andando dalla parte opposta rufi ma non cacchio vai dove cacchio vai è questa la parola qua non è ok 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 e qua si va giù bello sto fatto che non hanno messo la mappa come li amo quelli del gioco mi sa chi dovrebbe essere da quest'altra parte che bella giornata è il film di che cosa l'amore non ha religione non è caccolico non è tormone caccio 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 stavo facendo le prime mosse ok avevo visto un'altra missione se non è no ho visto ma la troverò mai la locanda eccola forse è questa entra premi la ed entra salve salve e benvenuto oh non te l'ho detto gestisco anche la taverna per questo l'ho fatta costruire nelle vicine ma non ne approfitterò solo perché ho due attività spero di fare ottimi affari con te vai alla taverna per fissare e assegnare le missioni dei cittadini nella schermata delle missioni alla taverna elencate le nuove vendure disponibili alla taverna puoi anche comprare carte da grattare le carte si grattano ah si ho un brurito sulla parte destra della carta mi gratti utilizzare monete per grattare i simboli corrispondenti missioni carte da grattare vediamo che cosa è una carta da grattare compro una gratta da grattare un gratta è vinci chissà una traduzione del cacchio per tentare la fortuna al gioco grattacarta grattacarta è fichetto puoi grattare a tutte le facce se hai una moneta con sopra la stessa faccia se vinci puoi ottenere vari tipi di oggetti trovo più monete per le vecchie mi compro questo va compriamo questo come si gratta ah ci vogliono le monete appunto perché a te non c'ho ancora un cacchio di monete ok e là ci sono le missioni vabbè io intanto devo la missione della capo di cacchio di farmacia dove cacchio sta alla locanda ora per costruire la farmacia non si tolva troverò mai la locante sarà sulla stessa strada credo che le hanno detto le costruite nelle vicinanze quindi quindi questa è e vai l'ho trovata Amplia Apri una farmacia Materiale insufficiente Serve un blocco di legno Erbe E polpa di cactus Ma che cactus vuoi? Appigliamento Se forse cambia pure i vestiti Rufi Vediamo Col cappello in testa Mi sono messo adesso Mi sono messo il cappello Mettiti il cappello Che c'è il sole Ti va in testa E diventi scemo Ok però io adesso voglio vedere Come si va avanti Per Come Per Per Battere a qualcuno Voglio battere Eccoli qua Qui ci sta Rufi Zoro e E Frank Non sei per niente cambiato Sì intendi che sono sempre super Allora hai ragione Non è quello Non preoccuparti Chi non sogna di essere super come me Vai nelle nuove terre E trova gli amici Ma dove stanno le nuove terre? Troppo questa è una cosa brutta Vedete ragazzi Hanno messo Oh nuova camma Hanno messo Un po' Di spessi Non si capisce facilmente Dove devi andare Ecco il paese Un palloncino Ho trovato Hanno fatto una palloncina Un po' Grossa Allora Dovremmo Ah ma forse io con il rocchetto Riesco ad andare di là Giustamente Io mi non ci devo fermare Arro vai Rufi Ok Oh c'è un'altra missione Ok Hai mai pensato di darti l'agricoltura? Oh ma mangi tu Potresti usare questo campo Legati all'orto per piantare i semi nei campi E mi vedere Cioè tutto stiamo facendo Tanto che lottare Seleziona visualizza campo all'orto Quindi scegli un seme da piantare I semi germogliano Mentre procedi nell'avventura Seleziona visualizza campo Per controllare la crescita Puoi ottenere semi da piantare Anche scambiandoli con delle piante Vai alla galleria delle piante Vabbè Visualizza campo Ah qua non hai semi Come ce l'avevo? Vabbè Ok via Io sono convinto che devo andare dall'altra parte E' arrivato crocodile Io mai lo sento che è arrivato crocodile Ok Come on come on Ok Vediamo se riesco ad andare da qualche Eh Per là ci stavo Cosa ho trovato? Un'erba amara E' pure amare Chi schia No 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 Gli otto dà Gli otto dà Gli otto dà Che togino Dove? Dove? Eh all'inizio Gamo gamo no Oh un altro palloncino C'è la collezione di palloncini qua Allora vediamo Forse dobbiamo andare da questa parte Forse finalmente ho trovato come Ehm Andare avanti Vedi A proposito ragazze Ventura e Pericolo vanno a braccetto Siete sempre pronti? Equipaggio a parole personalizzazione Per potenziare le abilità dei personaggi Oltre al normale Seleziono equipaggio a parole personalizzazione Dal menù C'è 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 Ho capito già questo come si fa Assegno una parola personale Eh? Eh sta peffetto Ok, equipaggiamo Rufy con le parole, vediamo allora Cioè la parola, questa battaglia è nostra Ovvio qua si usano appunto come vi dicevo ragazzi le parole per aumentare il personaggio Per renderlo più forte Però non lo so se ogni personaggio costo parola Può avere mi sa una sola parola E quindi dobbiamo prendere parole sempre più potenti per potenziare il nostro personaggio Questo qua ci dà resistenza alle esplosioni, resistenza ai fulmini e attacco più 6% Zoro e Frenk per il momento non li sto usando però vediamo posso migliorare ancora Le equipaggiamo Ce l'ha equipaggiata adesso Ok Così equipaggiamo Questo non c'ha nessun effetto A chi aspetta pure questo punto di vita più 7 Ok poi penso che poi sicuramente andando più avanti con il livello ragazzi si potrà aumentare e selezionare più parole da poter inserire Allora la prima missione l'abbiamo fatta a punk hazard e adesso dobbiamo andare a punting derogative Modifica la tua squadra Adesso abbiamo pure la squadra E' la prima volta che modifichiamo la squadra Tutti adesso le stanno facendo i tutorial Con modifica squadra puoi selezionare fino a 3 personaggi da schierare in battaglia Non puoi cambiare i personaggi della squadra finchè non torni in città Quindi scegli attentamente E abbiamo solo 3 adesso fratello Abbiamo Rufy, Zoro e Frankie Andiamo a questa prima missione Ovviamente episodio rivincita fra sabbia e roventi Jonathan chi ti ricorda? Chi ti ricorda? Eccoci qua Credo che già da adesso Vedete quella è la barra dell'energia Quella verde La barra gialla Serve per le super mosse E il resto non lo vedo più C'è una brezza calda Che sia davvero un deserto La mia mano destra può prosciugare qualsiasi cosa Ecco a voi crocodile Cappello di paia Quanto tempo Crocodile Cosa ci fai su? Beh tu cosa pensi? Penso che la scomparsa dei nostri amici Abbiamo qualcosa a che fare con te Credi pure quello che vuoi Allora come pensi di risolvere la faccetta? Dovrai seguirmi al palazzo Se vuoi conoscere la verità E seguiamo il cacchio di crocodile Poi vedete dove c'è Frank e Zoro Ovviamente quella è la loro energia E si va Bam Si possono rompere tutte le cose Polpa di cactus abbiamo preso Tutte le cose si possono rompere appunto Per avere oggetti Da poi poter usare Come vedevate prima Nella città Ecco la prima battaglia Cambia il personaggio che stai controllando Premendo il tasto meno O seleziona cambio leader Nel menu pausa Per cambiare il personaggio che controlla Sfrutta l'abilità di tutti i pirati Di cappello di paia Per affrontare almeno un'avventura Però io sono stati Prima vedi se no Non vuoi fare Sera Voglio fargli un cattling Gattling vai Mamma mia Sto mancando Non sei se non mi erano Sera Mamma mia Mamma mia Mamma mia GAM 한번 No CATLING per schivare o per trattaccare poi ogni volta dito ovviamente i mostri e gli amici che ci danno degli oggetti da poter poi utilizzare durante il resto della vita e poi ho lanciato via vittoria! vedete che è proprio tipo rpg a turni però quella è la super mossa però solo che è molto action quando esce la r vuol dire che c'è un dialogo da fare e si potrebbe tipo a volte ti curano a volte ti aiutano qualcosa ok rotta questa cosa non c'è un cacchio da dentro certo nel deserto è un po' dispersivo gli otto da gamu gamu no! PISTOL! questo qua mi sono chiamato in faccia all'altro ma faccio un cactus ma faccio un cactus blocco di legno io lo faccio ragazzi perchè comunque mi serviranno queste cose cocco bello cocco solo mille lega alla bustina bene bene ho fatto vedere un po' di l'attore sono già qui vediamo un po' la mappa qui dobbiamo andare dobbiamo andare c'è anche una zona di pesca vedete? ok un altro cacatusso questo è diverso infatti vedete c'è uscito fiore di cactus il fiore del cactus ok dovremmo trovare questo spaccima di crocodile da sconfiggere sto andando bene sto andando bene ecco si sto andando bene io i cactus li prendo tutti qui allora vediamo qua qua c'è solo deserto deserto e sabbia qui andiamo dove? qua aria precedente no e allora stiamo sbagliando tutto dobbiamo andare sopra verso la zona di caccia di pesca là c'è una piramide e se giustamente vedi che deve andare dove sta la piramide che quello deve essere il castello di crocodile che fa il crocodile come fa? non c'è nessuno che lo sa come si fa il bidet? se c'ha l'uncino là come fa a farsi il bidet secondo voi? ecco qua Zoro da che parte per la città? eh l'hai chiesto a Zoro non so se chi segue il manga sa che Zoro è quello che si perde sempre però qua adesso c'è l'acqua come mini mini ah c'è l'acqua però vediamo si può pescare secondo me qua non lo so non lo so ok eh però ho fatto vedere pure 20 minuti di scimità Jonathan giustamente oh altrimenti Jonathan giustamente Jonathan giustamente Jonathan giustamente Jonathan giustamente e poi e poi vabbè ragazzi se poi magari il video vi piace così tanto se volete vedere altro di One Piece Ultimate Red me lo fate sapere che cosa c'è qua me lo fate sapere tramite i commenti eh ragazzi che dirvi vabbè con tutti questi patatoni che cosa è così che le poche di queste ma scopo non faccio vedere il gamugamuno fuma almeno quel gioco e va ecco il gamugamuno eccolo gamugamuno pistol e li ho ammazzati bene ragazzi con il gamugamuno pistol io direi che va bene ci possiamo salutare per questo gameplay è durato pure parecchio siccome il gioco all'inizio mi metteva in una parte ehm un gioco un po' anonima diciamo che non è la vera anima del gioco quindi per questo ho voluto farlo un po' più lunghetto se vi piace così ehm come al solito appunto se il video vi è piaciuto ragazzi cliccatemi un bel ehm mi piace mi piace condividete su facebook twitter google plus ovunque ragazzi condividete con i vostri amici ehm appunto ehm fan di one piece se siete arrivati qua perchè avete chiuscito to one piece e poi ragazzi iscrivetevi alla pagina facebook degli amandola brothers dove potete restare aggiornati sui video degli amandola brothers e su tutte le novità guardatevi appunto la diretta che ci sarà martedì ehm quando è? 15 15 ehm luglio appunto su multiplayer.it su twitch di multiplayer.it riguardante appunto ehm one piece unlimited red in modo che potete vedere a fondo saranno tre ore giocate di one piece unlimited red e possiamo anche chiacchierare ehm con voi se poi dopo aver fatto tutto questo oppure non l'avete fatto perchè il video non vi è piaciuto da parte di tutte queste foche assassine che stiamo ammazzando e quindi madonna grazie ragazzi e al prossimo video ciao camu camu no pesto